Nel match tra Napoli e Crystal Palace, Sky Sport ha confermato una lunga conversazione tra i dirigenti della Salernitana e il 35enne giocatore azzurro, andiamo a dare un'occhiata. Se sei un tifoso napoletano a cui piace essere sempre aggiornato sulle novità della sua squadra, iscriviti subito al canale e attiva la campanella delle notifiche. Il Napoli ha vinto l'amichevole per 3-1, e il regista Morgan Santis della Salernitana è stato avvistato dopo la partita in tribuna. La sua squadra sta affrontando un problema con il portiere, Luigi Sepe, che si è infortunato e non si sa ancora per quanto tempo rimarrà fermo. Il veterano portiere, che è stato ingaggiato come free agent dal Genoa durante l'estate, deve ancora giocare con la maglia del Napoli. E l'asse tra le squadre potrebbe, dunque, presentarsi come una soluzione a un problema importante che sta affrontando la squadra di Morgan Santis, e il portiere, Salvatore Sirigu, troverebbe così più spazio. Secondo il giornalista Francesco Modugno, della redazione di Oskai Sport, il portiere era presente al Regnum Caria Golf e Spa Resort di Antalya e gli ha avuto una fitta e lunga conversazione con Morgan de Santis. E poi tifoso, approvi o no l'addio del portiere Sirigu? Lascia il tuo commento, è molto importante. Per saperne di più su questo argomento, iscriviti subito al canale e attiva la campanella.